La bolla scoppiata con la bolla scoppiata qui al IPT Novagorica, 56 giocatori rimasti, tutti a premi, tutti contenti e felici. Sentite le congratulazioni, tutti a premi i giocatori rimasti, applausi in sala, tutti contenti. Bolla scoppiata. Ora si giocherà più velocemente, la bolla è scoppiata, 56 giocatori, ora il giocatore che stirà prenderà bene 3.000 euro, 2.200 sprecati, diciamo così, più che sprecati, messi per giocare. Siamo andati tutti a premio, sono andati, non ci metto anch'io che sto seguendo il torneo, tutti i giocatori naturalmente essere metti a premio, guardate che confusione in sala. Partirà.